E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo ad approfondire le parole di Powell perché ieri soprattutto nella serata ha parlato Powell e come sempre quando parla crea un pochettino di movimento sui mercati soprattutto sugli asset risk on ma solitamente si tratta di movimenti di breve termine che poi rientrano in media ma è importante approfondire che cosa ha detto perché queste parole chiaramente vanno a dare una direzionalità ai mercati soprattutto vanno a far capire cosa potrebbe accadere da lì a breve ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qua sotto se vi fa piacere di supportare questi contenuti a noi aiuta tanto col canale a voi non costa nulla così come iscriversi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma lo sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in un mercato così volatile detto ciò se volete supportare anche il nostro lavoro e volete sfruttare gli sconti fili più elevati del settore trovate qua sotto la descrizione i link appunto degli exchange e dei servizi che utilizziamo anche noi personalmente se vi fa piacere detto questo ragazzi partiamo partiamo proprio dalle parole di Powell perché ve lo ho sintetizzato in tre tweet che ho estratto appunto per cercare di dare un pochettino solamente il quadro di quelle che sono state le parole che hanno colpito un pochettino di più a mio parere i mercati e sono stati la prima sempre quella in cui Powell non è ok non è diciamo sicuro delle cose che potranno accadere cioè ha detto per l'ennesima volta cioè non è nulla di nuovo ma ogni volta il mercato si sciocca di fronte a questa frase che hanno bisogno di maggiore evidenze appunto maggiori prove di una inflazione in correzione prima di andare ad abbassare i tassi ed è ovvio che questa roba qua l'ha già detta 250 volte ma ogni volta appunto il mercato pensa che la prossima volta sia quella decisiva e se non gli danno il contentino dei tassi che si abbassano insomma tende a diciamo a innervosirsi in realtà questo non vuol dire che non andranno a essere abbassati quest'anno perché ormai diciamo che le probabilità sono di un solo abbassamento di tassi un solo cut nel 2024 ma insomma cerca di rimanere sempre abbastanza conservativo proprio perché vede che i mercati stanno tenendo molto bene la situazione il soft landing si sta diciamo avverando ma molti non ci credevano a questa possibilità e quindi dice andiamoci più con calma insomma questa secondo me è un po' la chiave di lettura non c'è particolare difficoltà in questo così come appunto ha parlato che per quello che riguarda il unemployment rate quindi l'indice di disoccupazione il tasso di disoccupazione rimane a dei livelli molto molto bassi il 4% e questo appunto è un altro segnale che da forza Powell dicendo non ho bisogno di abbassarli subito sia per i mercati in realtà la Fed dovrebbe guardare fino a un certo punto più per anche l'aspetto però sappiamo che in realtà non è così ma anche sull'aspetto appunto della disoccupazione è stata una intensa insomma che rimane bassa e che quindi non necessita di andare a intervenire diciamo in maniera repentina e magari un po' azzardata sui tassi di interesse la cosa invece però importante a mio parere è quella che poi è andato a dire lui cioè dice molte persone pensano che la Fed banalmente non andrà mai non tornerà mai a utilizzare dei tassi di interesse ultra low quindi a zero o dei tassi negativi come nel recente passato ma in realtà nessuno lo sa capite che ogni volta sono frasi che sì non c'è una direzione chiara rimane sempre molto molto vago questa cosa qua chiaramente ai mercati a volte piace a volte meno soprattutto come la vogliono interpretare loro perché vi lascia a ampie interpretazioni comunque sia diciamo che ormai ci ha abituato a gestire le cose in questo modo vedremo nella prossima tornata delle FOMC se usciranno dei dati interessanti o delle frasi in più però ripeto a mio parere quando ci sarà il tasso il taglio dei tassi ci sarà non ve lo dirà non verrà mai a dirlo in una conferenza stampa cosa servono questi movimenti solamente per creare un po' di volatilità sui mercati perché banalmente non è stato aggiunto nulla di più diverso sarebbe stato se avesse detto non andremo ad abbassare i tassi quest'anno allora ok c'è una notizia c'è qualcosa che effettivamente può dare un info in più al mercato ma così parlando rimane tutto abbastanza stabile un grafico interessante invece è quello dei miners miners che si trovano in un drawdown molto importante che non arrivava dal livello del bottom di FTX pensate questo dovuto al fatto della correzione comunque di prezzo che c'è stata dopo l'halving chiaramente vedete già subito dopo l'halving c'è stata questa prima parte già di drawdown ma con anche una leggera correzione iniziano arrivare a soffrire molto di più ma era ovvio immaginarselo nel senso che i miners di base vanno ad avere un business model basato principalmente sulla block reward ok su quello che viene dato dal minare un blocco più che dalle fee le fee sono complementari poi ovvio ci sono dei blocchi in cui le fee sono più elevate rispetto ad altri ma in ogni caso diciamo che l'entità più grossa arriva dalla parte dei block reward quindi del nonno a emissioni di bitcoin andando a dimezzare ulteriormente chiaramente mette pressione perché è come se voi lavoraste su un prezzo dimezzato probabilmente cioè non so se il paragone è corretto ma è solo per darvi un pochettino l'idea di base della situazione in ogni caso il drawdown attuale dopo l'halving in questo momento nonostante bitcoin stia sui 61-62 mila dollari rimane inferiore arriva allo stesso livello più che altro di FTX vedremo se interromperanno delle attività di vendita o altro per andare magari un attimino a far respirare il prezzo o meno perché ricordatevi che i miners vendono sul mercato perché è un'attività lavorativa a tutti gli effetti a prescindere dall'investimento o meno prima di passare ai gainers e ai losers volevo condividervi una prova molto interessante di un exchange che si sta sviluppando in Italia che è molto... l'abbiamo visto anche a Dubai questo quando siamo andati con Marco anche al token 2049 che erano molto diciamo assettati ma in ogni caso la cosa interessante è perché per gli utenti italiani e attraverso il link che trovate qua sotto se fate un account e fate KAC vi danno 20 dollari prelevabili stop quindi non dovete fare training e nulla vi offrono fondamentalmente una pizza, una birra mettiamola così e quindi in realtà se le volete fare, lo volete provare è un modo per fare chiaramente onboarding e farvi provare l'exchange lo trovate qua sotto affrettatevi perché è una promo dedicata quindi da questo link qua e soprattutto vi dà la possibilità appunto di accedere a fondi appunto prelevabili senza dover fare nulla quindi è solamente un onboarding di clientela con un airdrop prelevabile se vi fa piacere lo trovate qua sotto appunto solo da questo link perché chiaramente vanno a tracciare quelli che sono gli utenti italiani detto ciò andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo Cardano che fa un più uno Conflux che fa un più uno Toncoin un più uno Tron un più uno tutto un più uno ragazzi nulla di particolare tra i gainers da segnalare tra i losers invece abbiamo quanti ne vogliamo Bitensor un meno 14 Lido un meno 12 WIF un meno 10 Brett un meno 9 Ave un meno 9 insomma via discorrendo questo perché chiaramente basta un soffio su quello che è bitcoin per andare a demolire ulteriormente l'alcoin in realtà lo vediamo mai nel movimento che ha fatto bitcoin dopo questo falso break chiamiamolo così che è andato a portarsi fino ai 63,8 è andato poi ieri nella giornata di ieri in correzione e in prosecuzione più che altro notturna dovuta alle parole di Powell che ha riportato il prezzo esattamente guardate dove sul supporto dei 66 ok nulla di più nulla di meno prezzo che poi è andato leggermente a rimbalzare e ora vediamo un attimino se andrà a stabilizzarsi ma ripeto a mio parere è abbastanza probabile non sono consigli di trading finanziario quindi ragazzi mi raccomando le cose che vi dico sono pensieri personali quindi non lo dovete utilizzare per fare trading è una chiacchierata che facciamo tra di noi ma in ogni caso dico secondo me a un punto di vista tecnico le condizioni per andare un'ulteriore correzione su questo livello diciamo questa correzione dovuta principalmente al Powell Shock ok della chiacchierata di ieri ma non mi meraviglierebbe se tornasse da dove è venuto riportandosi su 62 dalla chiusura della giornata precedente quindi non vi dico non è una cosa chissà quanto particolare la stessa cosa vale lo vedete sull'open interest che rimane elevato rimane molto elevato nonostante questa correzione che c'è stata notturna lo vedete come si è andato a liquidare guardate qua sotto se si vede si così lo vedete meglio a liquidare un bel po' di long ma in realtà lo vedete ha sempre recuperato cioè candela rossa di correzione l'open interest recupero rossa dump appunto e recupero significa che i contratti sono stati riaperti ok quindi non c'è stata una correzione e un appiattimento quindi nulla ci vieta davvero secondo me di andare anche a un V-shape recovery easy proprio ma ripeto non è un consiglio è una statistica secondo me osservando questi mercati da molto tempo che ho visto fare ricorrentemente ovviamente vedremo se sarà così oppure andremo in ritest della 200 dove ci siamo avvicinati molto la volta precedente bene per quello che riguarda le altcoin secondo me è inutile perderci troppo tempo perché rimangono molto molto correlate all'andamento di bitcoin soprattutto basta sono molto deboli perché basta davvero una piccola correzione per andare a dare insomma delle situazioni spiacevoli quindi stateci sempre attenti e gestite sempre bene le percentuali dovete anche bene dalla dominance detto ciò ragazzi mi fermo non voglio aggiungere altro fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti di quello che ci siamo detti ditemi la vostra noi ci aggiorniamo prestissimo con il prossimo video vi ricordo un like un'iscrizione date un'occhiata ai link che trovate qua sotto e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti